Ciao a tutti! Uno dei pochi consigli che mi sento di voler dare alle persone che vogliono iniziare a viaggiare è quello di non visitare soltanto i soliti posti, percorrendo i soliti itinerari, ma anche di esplorare, andare un po' alla scoperta dei posti. Questo per esempio è Iguasù, uno dei posti più turistici al mondo. Poco più avanti là ci sono le cascate e oltre una quantità infinita di acqua c'è anche una quantità infinita di turisti, di persone. Non c'è niente di male per carità, anche io viaggiando faccio il turista, però diciamo che quando c'è tanta gente ci si godi un po' meno i posti. Quello che faccio ogni tanto è di esplorare, andare alla scoperta, camminando anche un po' a caso. E così si ha l'occasione, l'opportunità di sorprendersi, di scoprire posti che pochissimi hanno visitato. E' quello di meravigliarsi, no? Che poi è la ragione per cui si viaggia. Un saluto a tutti! Ciao!